Allora, buonasera. Allora, stasera cerchiamo di essere più polemici che possiamo perché parliamo di manovra economica e parliamo in particolare del richiamo ai sacrifici. Allora, è una manovra di 30 miliardi, si dice che 18 miliardi sono dedicati prevalentemente proprio al supporto, alle famiglie, al reddito meno basso. Insomma, ci sono tutta una serie di discorsi e le polemiche, come al solito, abbondano. Quindi anche noi stasera dobbiamo essere abbastanza polemici, perlomeno all'altezza della situazione. Allora, io vorrei che Tiziano partisse dalle sue considerazioni sul ministro Giorgetti e al suo richiamo al sacrificio che ha fatto, credo, ieri o oggi. Insomma, ho visto un video dove lui con aria un po' così ha detto che preferisce il sacrificio. Tiziano, a te la parola, dai, libera. Dunque, una piccola premessa è questa, i sacrifici siamo costretti a farli perché siamo all'interno dell'Eurozona. non abbiamo la nostra moneta e quindi noi dobbiamo cercare di poter sostenere quelle che sono la necessità finanziaria per il governo, per portare avanti spesa pubblica e tutto quello che ne consegna. Vorrei far notare una cosa importante. Fidelizzo, mi ha colpito un cambiamento di percorso di Giorgetti. Mi ha fatto pensare a una mancanza di idee chiare, non solo di Giorgetti, ma di tutti quanti. Poi dopo farò presente, Katia, se avrò l'opportunità di fare anche un accenno della polemica che c'è fra destra e sinistra, che una parte si ritiene quella propensa sempre ad abbassare le tasse e viceversa e l'altra parte invece quella che le vuole aumentare. Questo è un gioco delle parti indecoroso perché noi sappiamo che all'interno dell'Eurozona, purtroppo, dovendo stare dentro certi vincoli, non si può sforare. Non abbiamo nessuna possibilità di fare manovre di bilancio espansive che possono aiutare a sostenere le economie, per cui dobbiamo cercare sempre di rimanere dentro quei parametri che tornano ad essere stringenti, quindi all'interno del famoso 3% che nel giro di un paio d'anni dovremo andare sotto, eccetera. Ma come dicevo, mi ha colpito la questione di Giorgetti perché ha esordito un po' di tempo fa, quando ho cominciato a parlare della manovra, dice dovremmo fare tutti un po' di sacrifici. Poi dopo vari cambiamenti di atteggiamento, affermazioni diciamo un po' contraddittorie, siamo arrivati all'ultimo e lui dice non toccheremo famiglie e imprese. Bellissimo, tolte le famiglie, tolte le imprese e rimangono gli animali domestici. Non so, forse vorranno andare a prendere i soldi da loro. A parte così l'ironia e la polemica perché loro chiaramente dimostrano di annaspare, di fare solo della propaganda perché alla fine la coperta corta se la devono dividere tra quei pochi settori dove si può andare a prendere qualcosa. Nulla di trascendentale, diciamo che qualche cosina ancora ci è concesso, quindi lo sforamento sopra il 3% permette di fare un pochettino più di deficit. Vorrei sottolineare che in uno stato normale dotato di una propria valuta, di una propria sovranità monetaria, il deficit è uno strumento fondamentale perché è quello che ci permette di sostenere l'economia nei momenti di crisi. Noi abbiamo un momento di economia un pochettino topica, si aumenta il deficit e ovviamente investendo in opere infrastrutturali, dando la possibilità di poter aumentare la liquidità nel circuito economico, questo ci permette all'economia di prendere fiato. Questa cosa a noi non è permessa. Concludo dicendo questa mia prima analisi, ripeto, sottolineo questa inutile propaganda che fanno perché tanto la coperta è quella per cui sia che ci sia a governare uno di destra che uno di sinistra, la coperta è quella e nessuno si può inventare niente perché siamo obbligati a stare dentro questi parametri che sono parametri recessivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che togliendo le spese per gli interessi i soldi che lo Stato prende con le tasse sono superiori alle spese che il governo investe nella spesa pubblica. Quindi fa avanzo primario. Cosa permette questo meccanismo? Cosa crea nel tempo? Crea che drena costantemente anno dopo anno liquidità al circuito economico e noi, lo dico per chi abbiamo il piacere che ci ascolta, sono 30 anni che facciamo avanzo primario. Tranne un anno nel 2009 per uno zero virgola, noi sono 30 anni che facciamo avanzo primario. Concludo dicendo che se non siamo ancora ridotti 10 volte peggio della Grecia è perché abbiamo la fortuna ancora di avere una bilancia commerciale inattivo per cui le esportazioni ci aiutano a portare dentro un po' di valuta e un pochettino di liquidità. Ma questo ha un prezzo gravissimo di salari sempre più bassi, con potere d'acquisto sempre minore. Siamo l'unico paese, diciamo nel paese dell'Unione Europea, ma possiamo dire al mondo, che negli ultimi 30 anni non solo non ha aumentato il valore dei salari, ma si è ridotto del 3%, una follia allo Stato puro. Quindi il futuro, abbiamo bisogno che si creino nuovi paradigmi per poter riprenderci perché se no la nostra discesa continuerà ad essere lenta e costante. Katia ti ripasso la parola e vorrei sentire anche Massimo e te. Ti ringrazio, purtroppo sono preoccupazioni concrete. Massimo, scusa, io ti leggo un brevissimo assunto delle dichiarazioni di ieri, mi pare, della conferenza stampa di Giorgetti, il quale ha dichiarato, c'è un significativo intervento su banche e assicurazioni, qualcuno lo chiama extra profitto, qualcuno lo chiama contributo, io lo chiamo sacrificio e spero abbiate compreso che cosa intendevo quando usato questo termine di cui si è abusato in queste settimane, scusate il cane. Allora, anche il cane si ribella. Esatto, a parte il discorso degli extra profitti, che in realtà non esiste, gli extra profitti non esistono, però almeno secondo me non esistono, non almeno nei termini in cui intende la nostra classe politica e i nostri mass media. Detto ciò, lascio a te la riflessione su questa dichiarazione. Allora, Giorgetti parla di sacrifici per le banche. A me sinceramente viene un po' da ridere, perché basta un semplice ragioniere, non per dire che ragionieri sono dei sempliciotti, ma per dire che non è necessario essere degli economisti alla Draghi, per capire che a fronte di guadagni notevolissimi che le banche hanno fatto anche grazie all'aumento dei tassi deciso dalla BCE, la legge di bilancio nella realtà prevede semplicemente un anticipo della liquidità delle banche al governo, tramite cosa? Tramite la sospensione delle deduzioni sulle imposte differite attive per gli anni 2025 e 2026. Questo fa questa manovra, per quanto riguarda questa questione degli extra profitti. Gli stessi analisti di Mediobanca hanno dichiarato che la misura non conferma alcuna tassa bancaria sugli extra profitti, ma semplicemente una misura di liquidità, che poi è in realtà quello che credo avesse, se non ricordo male, anche proposto l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Quindi alla fine siamo in presenza di un trucco contabile, un accordo per fare bella figura politicamente, anticipare qualche denaro alle casse dello Stato, visto che continuiamo in questa commedia dello Stato che funziona come un'azienda, funziona come una famiglia, quindi prendere tempo, come diceva prima Tiziano, galleggiare, buttare la palla in tribuna, sperando che nessuno rimandi questa palla in campo sostanzialmente, almeno fino al prossimo governicchio, perché per me questi non sono governi, sono dei governicchi teatrali, fanno teatrino, per gli ingenui però. Chi parla di sacrifici per le banche, come Giorgetti che dice sono figlio di un operaio, non sa neppure dove stiano di casa i sacrifici. È probabile che non abbia mai visto Giorgetti in vita sua una bolletta del gas o della luce, perché tanto gliele paga qualcun altro, quindi non si rende proprio conto e fuori dal mondo. Perché i sacrifici li fanno i cittadini, quei cittadini con cui adesso il governo si fa bello dicendo che ha messo a disposizione 2 miliardi per la sanità. Se la questione non fosse seria, con queste liste di attesa infinite e 40 e 8 miliardi, perché ultimamente sono usciti articoli che dichiarano che 40 e 8 miliardi all'anno vengono spesi dagli italiani per pagarsi le cure privatamente, grazie a un servizio sanitario statale che ormai ha lo sbando, ci sarebbe da ridere. A me invece viene da piangere, perché solo l'inflazione, questi 2 miliardi, si li è tranquillamente mangiati, perché dobbiamo pensare al valore nominale in questo caso. I numeri veri che dobbiamo guardare sono quelli che tengono conto dell'inflazione. Quindi, per esempio, proviamo a valutare la spesa sanitaria in rapporto al PIL, in percentuale. Le percentuali sono sempre meglio rispetto ai numeri assoluti, perché ci danno l'indicazione di un trend. Nel 2022, con il governo Draghi, noi abbiamo avuto le spese sanitarie rispetto al PIL al 6,31%. Il massimo è stato raggiunto con il governo Conte, 2 credo, con qualcosa in più rispetto al 7%. Nel 2025 e 2026, in questo le spese scenderanno al 6%, il minimo storico degli ultimi 15 anni. Negli ultimi 15 anni la sanità è stata distrutta e questo governo che dice di mettere i soldi sulla sanità sta invece semplicemente procedendo su quella strada, perché sta scendendo addirittura al 6% di incidenza sul PIL. Questi sono i numeri, il resto è pura propaganda. Quindi quando la Presidente Meloni parla dei suoi record, anche i record occupati, mi fa ridere. Andiamo a vedere le ore lavorate, non andiamo a vedere gli occupati. Quello che conta sono le ore lavorate, perché se tu mi prendi 100 persone e le fai lavorare un'ora alla settimana, sarà ben diverso che avere 100 persone che lavorano 40 ore alla settimana. Siccome per essere dichiarati occupati basta un'ora di lavoro nella settimana di riferimento, capiamo bene che questi ci stanno prendendo in giro. Stanno semplicemente facendo propaganda. Poi vabbè, magari nel prossimo giro farò anche qualche commento su quanto questo governo sia importante, sia apprezzato. Sia apprezzato perché è servo come tutti i governi che l'hanno preceduto. Perché guardiamo anche solo la questione della Stellantis, poi se vogliamo parlarne e vediamo. No, no, ne parliamo sicuramente perché quella è un'altra cosa assolutamente clamorosa. Cioè io veramente ho trovato le dichiarazioni di Tavares che sono veramente lunari. però vorrei chiedere a Tiziano, perché Tiziano è uno che viaggia, no? Come sono stata io per molto tempo della mia vita, anche per lavoro eccetera. Ho ancora una macchina che va a gasolio, che Dio me la preservi. Però io ci sono veramente rimasta nel momento in cui Giorgetti, diciamo, parlando del riallineamento, scusate, delle accise tra gasolio e benzina, ha sostanzialmente parlato del fatto che alla fine costerà un centesimo in più. Insomma, quindi niente di che, nessun problema. Non lo so, io ritengo che invece i problemi ci siano soprattutto per chi viaggia e chi fa del trasporto il proprio senso, il proprio lavoro. Cosa posso dire, Katia? È tutto sconcertante e avvilente questa politica green, le macchine elettriche che hanno un impatto ambientale incredibile dall'inizio, perché bisogna considerare tutto il ciclo. Hanno dei costi di esercizio infinitamente più alti, ci sono problemi di smaltimento. Poi non so se avete visto e quante se ne incendiano, è qualcosa di pazzesco. quindi vedere, demonizzare così l'attrazione, l'alimentazione tradizionale dei combustibili fossili è demenziale. Anche perché noi sappiamo che con la tecnologia sulla quale dobbiamo cercare di contare più che mai nella tecnologia buona, però quindi non quella fatta dalle multinazionali per il loro uso e consumo, per il loro sfruttamento dell'umanità. Anche la ricerca, lo studio di nuove tecnologie dovrebbero essere di competenza degli stati, perché non possiamo lasciare solo in mano la ricerca ai privati, perché io ormai comincio ad avere una certa età, sono una persona anziana, sono oltre 50 anni che sono sul mercato e vi posso garantire che di persone affidabili ce ne sono poche. Di persone affidabili che hanno un potere enorme, io credo che non ce ne sia neanche una, per cui bisogna riuscire a creare un sistema, un sistema che sia controllabile dalla gente, dai popoli, dai cittadini, cittadini che devono essere educati a capire quali sono le semplici regole per far funzionare uno Stato. Quindi un cittadino che è in grado di valutare. Ora, fra l'altro qui ci sarebbe tanto dai diricati, perché noi abbiamo per esempio oggi il Green, questa assurda politica europea che da studi fatti, attendibili, affidabili, che io ho visto da più fonti, tutte affidabili, risulta che potrebbero andare a incidere dall'1 al 3% a livello mondiale della riduzione della CO2, dell'inquinamento, a parte che la CO2 non è un gas inquinante. Noi abbiamo nell'atmosfera, questo dato vorrei darvelo perché noi abbiamo questa campagna Green che è veramente un insulto e un tradimento al buon senso della gente, è un tradimento dell'umanità. Noi abbiamo nell'atmosfera la CO2 che incide per un 0,004% mi pare. Se si dovesse andare sotto lo 0,003 morirebbe la vita sul pianeta Terra perché non ci sarebbe più un nutrimento sufficiente per la vegetazione, se non c'è per la vegetazione non c'è più neanche per noi. Allora io qui farei un appello per quelle persone che saranno così volenterose da ascoltarci, da guardarci, cerchiamo tutti quanti di aprire gli occhi, di fare informazione, di parlare. La sera quando andiamo fuori, sabato sera al ristorante con gli amici, non parliamo dove andiamo il prossimo weekend a far festa, parliamo di queste cose che riguardano noi, riguardano i nostri figli e sono molto più coinvolgenti che qualsiasi romanzo giallo oppure del terrore. Per cui c'è anche un risvolto, anche così di interesse, di coinvolgimento. Una volta che uno comincia a capire alcune piccole cose e comincia a costruirsi qualche parametro di valutazione, tutto quello che sta succedendo nella nostra Italia, nella nostra società e nel mondo è follia allo Stato puro. È tutta propaganda e tutto gestito da questi grandi globalisti, questi grandi, io li chiamo attori globali, questi multinazionali, questi grossi gruppi di investimento che hanno le mani su tutto e che misurano tutto con i dividendi per gli azionisti. Allora il profitto, io che sono un piccolissimo imprenditore, so che il profitto è un diritto oltre che una necessità per l'impresa. Ma l'obiettivo non deve essere la massimizzazione dei profitti. Una volta che io ho guadagnato bene come azienda e mi sto creando un mercato, mi sto creando una prospettiva, dopo il mio obbligo è anche sociale, di condividere quello che io faccio sia sotto il piano professionale ma anche sotto il piano relazionale, cosa che oggi manca sempre meno perché oggi siamo nell'era della competitività grazie a questo neoliberismo demenziale oltre che criminale che ha tolto, ha scavalcato il concetto di cooperazione e di collaborazione fra le persone con la competitività. Detto questo concludo, caracate per ripassare subito la parola a voi, il concetto di privatizzazione è un concetto che è molto condiviso da questo governo, non parliamo da quelli precedenti che hanno fatto tutto il peggio che potevano, hanno privatizzato l'imprivatizzabile dai tempi di Draghi, D'Alema, Prodi che hanno fatto dei record mondiali di privatizzazione distruggendo, svendendo gioielli incredibili a livello mondiale come il gruppo Ieri che era il quinto gruppo industriale al mondo, era il terrore della nostra concorrenza estera. Questi qui continuano, è da poco che governano per cui non hanno potuto fare ancora i danni degli altri ma sono esattamente sulla stessa linea, privatizzazioni, privatizzazioni, ancora privatizzazioni, abbiamo visto con la team, abbiamo visto con tutti gli altri e immaginatevi la sanità. Concludo proprio facendo una battuta su Stellantis, la Fiat faceva 2 milioni di macchine all'anno, anni 90, eravamo le migliori al mondo, le migliori marche al mondo perché Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, oggi sono 500 mila e abbiamo dei modelli che sono lì da 10 anni tipo la ONU, un disastro. L'Italia, non c'è più nessuno che si sta battendo per l'Italia, questo è una cosa infamante. Grazie. Grazie Tiziano, sì è vero, in realtà voglio dire la concorrenza fa parte di un sistema che è il sistema capitalistico, noi sappiamo che è così, quindi massimizzo il profitto perché sono nell'ambito di un sistema che prevede la concorrenza, massimizzare vuol dire anche competere con gli altri, con le altre imprese, il che voglio dire può essere accettabile o non accettabile, d'accordo? Quindi schissiamo nell'ambito del, non so, uno potrebbe dire un incisimo, mi scusi? Uno diceva, arrivo arrivo, il capitalismo non è l'ultimo dei nostri sistemi e io lo voglio sperare, no? Vai Tiziano dimmi, però cioè nel senso, il problema secondo me… Volevo sottolineare la differenza tra massimizzazione del profitto e profitto, è un buon profitto, tutti dobbiamo, noi che lavoriamo, che facciamo imprese, piccolo o grande che sia, dobbiamo mirare al profitto come primo obiettivo, una volta che abbiamo un buon profitto dobbiamo diventare animali sociali e condividere la nostra ricchezza con gli altri, la competizione va sulla qualità del servizio e la qualità del prodotto, se è buono vai avanti, se no no, diverso è la competizione a livello finanziario, cosa che noi dovremmo dare un taglionetto, togliere la finanza dall'economia perché se no non ci riprenderemo mai, la finanza non è impresa, la finanza è parassitismo, nell'economia reale dove c'è produzione ci può essere la sana competizione ma ci può essere rispetto ai valori. Sì sì, no ma io sono d'accordo, ma il dramma, e qui poi volevo appunto chiedere anche a Massimo, cioè il problema è che qui abbiamo delle aziende, ma mica solo Stellantis, voglio dire, perché io parlerò anche di Volkswagen, vogliamo parlare di Audi, vogliamo parlare anche dei grandi marchi tedeschi, dell'automobile, voglio dire, che si sono ritrovati a un certo punto con questa patata bollente in mano, per cui hanno sposato in toto quelle che sono le politiche diciamo green, in modo totalmente decerebrato, perché altro non posso dire, gente pagata decine di milioni l'anno ha accettato questo programma suicida così, con una tranquillità veramente imbarazzante, quindi non hanno fatto gli industriali, perché qui non è neanche un problema di finanza, qui è un problema di industria. Se tu hai uno staff di gente che faccia del marketing seriamente, ci metti un mese a capire che puntare tutto sull'elettrico probabilmente ti porta in una situazione per cui chiudi tutto, no? Cioè ci arrivo anch'io che sono una piccola persona che le ho giudito qualche notizia, vuoi non arrivarci tu, e invece siccome devi stare lì dove sei stato posizionato, allora dici tu. Per cui qui non stiamo neanche parlando di una finanza aggressiva, anche se c'è dietro, lo sappiamo. Qui sta proprio parlando di una classe dirigente industriale che non ha minimamente le palle, lasciatemelo dire, di quelli che erano i grandi capi dell'industria, almeno diciamo del primo novecento, se non anche fino agli anni sessanta, ecco, almeno in Italia, almeno in Italia. Quindi, Tavares, Stellantis, è mai possibile? Massimo, vai, vai, infierisci perché onestamente... Allora qua c'è un discorso adesso da fare su Stellantis che riguarda propriamente l'Italia, no? L'Italia dimostra col caso Stellantis di valere come due di picche, perché Stellantis ormai è una società sostanzialmente francese, ok? Come diceva prima Tiziano, noi negli anni ottanta producevamo due milioni di automobili e tendenzialmente delle automobili apprezzate. Oggi non siamo neanche a 500 mila, Tiziano, cioè ora siamo sotto i 300 mila, ok? Quindi è una questione veramente gravissima, tanto più se pensi che il gruppo Fiat negli anni ha preso almeno 240 miliardi tra incentivi, cassa integrazioni, finanziamenti vari eccetera da parte dello Stato. Se poi a questo aggiungi le cassa integrazioni dell'indotto, gli interessi sul debito pubblico che all'epoca è stato fatto per dare le cassa integrazioni, gli incentivi a Fiat eccetera, arriveremo a omeno 300 miliardi e con questi 300 miliardi quante volte la nazionalizzavi la Fiat e mantenevi centinaia di migliaia di posti di lavoro in Fiat e indotto? Invece adesso siamo diventati, grazie alle scelte miopi dei nostri governanti, da prodi in avanti, siamo diventati i cacciavitari della Germania e quando sento anche qualcuno che si illustra le dita sul petto dicendo ma noi stiamo andando meglio della Germania. Intanto adesso non stiamo più andando meglio della Germania, ma quando andavamo, c'è stato qualche trimestre che andavamo meglio, io a questi gli dicevo attenzione noi siamo ormai diventati i cacciavitari della Germania, soprattutto in Lombardia, nel Triveneto. Quindi avendo perso tutte le competenze ed essendo semplicemente dei mano valide, per questo anche che gli stipendi sono così bassi, ok? Perché noi siamo diventati appunto il giardino da cui le Volkswagen, Mercedes eccetera prendono nel territorio europeo operai a buon prezzo, ok? Mi dicevo guardate che è solo una questione di mesi, dopodiché noi subiremo il contraccolpo della crisi delle varie Volkswagen, Mercedes eccetera. Cioè ci voleva un genio per prevedere una cosa di questo tipo? Assolutamente no. Quindi Tavares è vergognoso, perché arrivare qua a minacciare che chiude praticamente tutto se non gli danno i soldi per fare la transizione green è veramente vergognoso. Certo un po' di giustificazione forse ce l'ha, perché questa transizione green non l'ha voluta lui, no? L'ha voluta l'Europa. È l'Europa che ha voluto a tutti i costi infilarsi in questo tunnel del green, sia sulle automobili che sulle case, che tra l'altro non fa altro che metterci sotto ricatto dei cinesi, no? Cioè si lamentano del fatto che prima eravamo sotto ricatto per il gas della Russia, adesso siamo sotto ricatto dei cinesi per le terre rare, per i pannelli solari, per le batterie, per tutto. È veramente ridicolo, veramente ridicolo. Io sinceramente sono basito da come la gente non sia in grado di rendersene conto. Probabilmente perché come dici tu quando vanno a cena il sabato sera, anziché parlare di cose che sono importanti per la vita nostra e dei nostri figli e delle future generazioni, anche per chi non ha figli non è che se ne può fregare delle prossime generazioni. E quindi parlano del prossimo weekend, madama la Marchesa abbiamo fatto la pericena, siamo tutti contenti e ciao. Intanto sempre più gente va alla deriva. Infatti vorrei sapere chi è contento. Cioè quelli contenti saranno ben pochi ormai. Perché anche se uno sta dignitosamente, sta abbastanza bene, no? Cioè tu sei un piccolo imprenditore, io sono un manager, quindi non è che stiamo male. Però uno potrà pensare che magari i nipoti non avranno la stessa fortuna, no? Ma anche i figli, perché i figli avranno davanti magari 40, 50, 60 anni, si spera 60, anche 70 anni di vita, come cambierà il mondo se continua ad andare in questa direzione? Ci troveremo in un mondo in cui ci sarà una piccolissima elite che ha tutte le ricchezze, ci sarà una frangia di poche centinaia di migliaia di persone nel mondo che saranno i servi ricchi di questa elite e poi ci saranno miliardi di persone che saranno veramente alla deriva, peggio del terzo mondo. Cioè questo è quello che ci aspetta, se si continua così. mi taccio. Eh no, ma mi lasciate sempre questi macigni. Se vuoi, Cate, fai su una piccola chiosa, i macigni ce ne do un altro. No, no, ma lo sai. No, no, ecco, appunto, no, ti stavo dicendo, Tiziano, bisogna che qua però un qualche messaggio di positività, almeno di una speranza, no? Che io tra l'altro ho, io ritengo, e qui scusa se andiamo nel metafisico, ma faremo un'altra puntata, Tiziano, su questo, ma sono abbastanza dell'idea che poi le cose, per una serie di ragioni, si sistemano, cioè si va verso delle logiche per cui, quando meno te ne aspetti, ci sono dei cambiamenti grossi. Il problema qual è? È che non si riesce a capire, o beh, non si riesce a capire, lo possiamo immaginare, chi è che ha in mano il bandolo della matassa. Cioè, il vero problema è un po' questo. Come fermi chi ha in mano le fila di tutto questo giochino? Questo, secondo me, è il vero tema. Che sono quelli che hanno in mano i tavare, sono quelli che hanno in mano i ministri dell'economia, sono quelli che hanno in mano un po' il tutto. Per cui, dai Tiziano, così io... Allora, concludo solo un attimo su, visto che era l'inizio della puntata, il protagonista era Giorgetti, mi riallaccio alle due analisi che ha fatto, perfette, che io condivido, di Massimo, soprattutto la prima mi ha colpito per la, così, proprio competenza perfetta, precisa, della quale ho attinto anch'io su alcuni dati, alcune posizioni delle banche. E il protagonista iniziale della puntata, che era Giorgetti, non dimentichiamo che se noi abbiamo avuto un piccolo aumento del nostro rapporto debito-pil, che sembra che le cose nel 2000 siano andate un po' meglio, è stato solo ed esclusivamente per un motivo, per il bonus 110, che è stata di fatto una manovra espansiva, fatta che si poteva fare meglio con delle pecche, va bene, ma a livello macroeconomico, a livello di conti generali, ha dato una bella iniezione ed era stata una cosa studiata benissimo. Ma è arrivato il genio della Bocconi, uno dei tanti geni che ha partorito la Bocconi, Giorgetti, che ne ha detto peste e corna. Questo non glielo perdonerò mai. Adesso che è finita la musica, e tutti quanti prevedono per il 2025, il 2026, uno 0,2 in più, uno 0,4 in più al 2026, state tranquilli, io se sbaglio non mi vedrete più poi in trasmissioni, non mi vedrete più da nessuna parte, ma mi gioco la mia futura reputazione, potremo solo peggiorare, il rapporto debito-pil adesso tornerà ad aumentare. E questo è fuori discussione. Tu Katia sei meravigliosa, perché vuoi sempre una nota positiva, vuoi lasciare i nostri amici che ci seguono, i nostri spedatori, con un'ondata di positività. Allora io, che sono meno metafisico di te, ho una grandissima attenzione per questo tipo di problematiche, come tu sai, come sapete, molto più dell'economia, anche se sono spesso coinvolto a parlare soprattutto di questa, per cui benvengano l'una e forse anche più trasmissioni sugli altri temi, ecco che ci coinvolgono proprio in questa, in queste situazioni, cioè ci affidiamo a Dio? Tu hai questo, dici alla fine arriverà qualcosa, che il bene che vince, il male che perde. Io non sono così ottimista, se poi avremo occasione, vi dirò anche perché, perché siamo entrati nell'era terribile dell'alienazione di massa, scientifica, con strumenti potentissimi, sempre a vantaggio di pochi o a disposizione di pochi, molto più potenti di quelli che noi crediamo, perché voi potrete immaginare oggi anche a livello militare tutte le ricerche che fanno per il controllo, per l'intelligenza artificiale, per tutte quelle cose lì, sono decisamente più avanti di quello che noi crediamo, e già quello che noi conosciamo è terribilmente tanto. Allora a questo punto noi siamo già perdenti su tutto, noi siamo morti, siamo finiti, e per me non c'è nessun Dio che ci verrà a dare una mano. L'unica cosa, se vogliamo farlo, perché ora, perché sennò dopo diventerà troppo tardi, cominciamo a informarci, e cominciamo a unirci con gli altri, a condividere con gli altri, smettiamola di dividerci in bianchi e neri, destri, sinistri, si vaxano, vaxano, ci vogliono divisi, ci vogliono disinformati, ci vogliono alienati, perché così possono fare tutte le porcherie e le stupidaggini che vogliono, e noi non siamo in grado di intendere e quindi di reagire. Allora, qual è l'invito per me, l'unica speranza, e ho concluso, dobbiamo informarci, informarci, e condividere con gli altri, avere la forza di dialogare e di scambiare le informazioni. Quando sapremo tante cose tutti assieme, quando andremo a fare la spesa, il potere diventerà nostro. E concludo dicendo, allora il grandetto, dice aiutati, che Dio ti aiuta, tornerà ad essere valido. Grazie. Ma per me è già ancora valido, però allora, l'alienazione, l'alienazione è un bel tema, è un bel tema, però io ti dico solo questo, noi siamo passati da tre anni di incubo con questa maledetta faccenda del Covid, Green Pass e tutto quello che ne è seguito. Allora, noi siamo testimoni del fatto che in realtà una fetta di popolazione, tutto sommato neanche così piccola, no? Non ha, come dire, preso in modo, come posso dire, fideistico, cioè, non ha accettato la narrazione, brutta sta parola, comunque, non ha accettato quello che le veniva raccontato, ma ha fatto di testa sua, d'accordo? Quindi vuol dire che c'è nell'umanità ha una possibilità sempre e comunque di risposta e di, a mio avviso, di redenzione. Non so se mi riuscite a sentirmi bene, ma comunque... Benissimo, c'è, c'è senz'altro, ma dobbiamo attivarla. L'intervento di Roma diventa veramente un'altra cosa e noi adesso magari parliamo di economia, però, sempre tornando all'elemento di economia, dell'industria, di quello che sta succedendo, forse sarebbe anche il caso che, proprio perché esistono delle frange di persone che continuano a ragionare, no? Sarebbe il caso che magari in alcune realtà e per alcune realtà, per esempio, industriali, la gente cominciasse ad avere il coraggio di dire basta con le politiche green perché a casa poi ci restiamo noi, non ci restate voi, no? Voi dirigenti d'azienda, ci restiamo noi, poveracci, che dobbiamo lavorare. Cioè, quello che io semmai non vedo, non è tanto l'alienazione generale, ma, se vuoi, una certa incapacità delle reazioni forti. Ecco, questo un po' l'abbiamo persa. Massimo, finisci tu, a te la parola. Potremmo, solo una cosa, potremmo definire indifferenza, che è un virus terribile. Sì, per te la parola. È un virus dell'indifferenza ma dovremmo trovare una cura perché è sempre più diffuso. Massimo, a te. Microfono. Dovevi raffinare la domanda o vado? Vado. Allora, hai tirato fuori la questione del Covid. La riprendo solo per una questione, perché Schwab, il Deus ex machina del World Economic Forum, ha scritto un libro che non so se adesso si trova ancora in italiano, quando l'ho preso io ero solo in inglese, The Great Reset. Una cosa che mi aveva colpito è che già nelle prime qualche decina di pagine, non so se nelle prime 40 pagine, sostituiva l'Avanti Cristo e il Dopo Cristo, poi lo diceva in After, Before, eccetera, con l'Avanti Covid e Dopo Covid. Ok? Ora, saranno tutte coincidenze, saranno tutte combinazioni, ma è abbastanza sospetto che un uomo in quella posizione colga quella che era stata presentata come la peste del 2020, non penso che negli altri periodi in cui ci sono state le pesti e la gente fosse contenta, l'ha presa in maniera molto positiva, perché vedeva la possibilità di una trasformazione del mondo anche a livello economico e sociale e questa trasformazione c'è stata perché se pensi a quanta gente non faceva acquisti su internet, non aveva la carta di credito e usava i contanti ed è stata costretta a utilizzare la tecnologia per poter sopravvivere, no? Perché se volevi anche comprarti un cerotto, una garza, dovevi per forza farlo via internet praticamente perché uscire era quasi impossibile all'inizio, ok? e l'hanno trasformato il mondo, cioè adesso il contante viene utilizzato molto meno e la gente non si rende conto della gravità di questo, per cui la trasformazione loro sono riusciti a portarla avanti, poi tu dici c'è stata però una fetta anche consistente di persone, che sarà un 10-15% che non ha accettato questo stato di cose e ha manifestato, ha colto per esempio il Green Pass, ha cominciato a porre in essere delle azioni di resistenza, no? Quindi tutte queste comunità che sono nate, le scuole parentali per i ragazzi che non si erano vaccinati, non potevano usare i mezzi, eccetera. Quindi hanno attivato paradossalmente anche delle forze positive, no? Che hanno messo in atto delle iniziative, hanno creato, ma loro questo l'avevano previsto, perché se tu leggi un po' di libri di questa, di questi clan, cioè io li chiamerei clan, perché sono proprio come dei clan mafiosi, loro hanno previsto che una certa parte della popolazione rimarrà al di fuori della società. L'aveva detto anche Draghi, quando c'era stato il Green Pass obbligatorio per gli ultracinquantenni, per il lavoro, eccetera, aveva detto che c'erano una serie di persone che erano praticamente emarginate dalla società, quindi sapeva benissimo quello che stava facendo, sapeva benissimo che quel Green Pass assomigliava tanto a una tessera verde che forse dovremmo ricordarci tutti, anche agli israeliani magari. E quindi loro l'hanno previsto, l'hanno accettato, a loro interessa il 70-80% della popolazione, l'altro 20% può vivere un po' come vuole fin tanto che andrà a esaurimento, perché loro pensano che saranno comunità che andranno a esaurimento e che avranno a che fare solo con una manica di rimbecilliti alla fine che saranno riusciti a plasmare come vogliono loro. Nella storia poi c'è sempre la scheggia impazzita, quindi la mia speranza è questa, spero nella scheggia impazzita, che quindi non riescano a portare avanti fino in fondo questo progetto che hanno che ha del demoniaco, perché voler avere una massa di schiavi, per carità gli imprenditori è giusto che guadagnino, non è che l'imprendito, io non sono uno di quelli che dice l'imprenditore deve guadagnare solo due volte rispetto al dirigente piuttosto che all'operaio eccetera, cioè l'imprenditore deve guadagnare perché si assume dei rischi e quindi deve guadagnare, però come diceva Tiziano c'è anche una funzione sociale dell'imprenditoria, ok? Perché l'economia ha un impatto diretto sulla società, molto forte. ricordiamoci Adriano Olivetti Massimo che era qualcosa di sublime. Assolutamente, sì ma se vai anche più indietro c'erano i vari Citroen eccetera che sono stati i primi a fare gli asili nido per le operaie eccetera, cioè c'era i marzotto anche se tu vai a vedere i villaggi che ci sono anche qua in Lombardia, ce ne sono diversi di imprenditori che prima della seconda guerra mondiale avevano creato dei villaggi ma lo stesso Mattei ma a livello internazionale è stato il più grande uomo della storia è stato un grandissimo di economia internazionale questi erano i capitani di industria questi sono i capitani di industria che devono piacerci ok? non quelli che sfruttano fino al midollo anche i bambini cioè che vanno a produrre in Pakistan piuttosto che in altri posti cioè la Corea del Nord ma in Corea del Nord ci sono un sacco di produzioni non lo dicono ma ci sono un sacco di produzioni dei cinesi cioè quello che non riescono a fare in Cina a prezzo bassissimo lo fanno in Corea del Nord e qua è sempre al ribasso ma sempre al ribasso sulla dignità delle persone la gente deve svegliarsi perché questi sono una tavola imbandita ma se ci alziamo tutti in piedi questa tavola gliela ribaltiamo la nostra forza è il numero la gente deve capire questo la gente deve smetterla di essere depressa la depressione non serve a niente è come la paura la paura può essere utile in alcuni casi ma se si trasforma in apatia in panico eccetera non serve più a niente ti fa solo del male quindi la gente deve informarsi come diceva Tiziano questo costa fatica però perché noi ci informiamo ma costa fatica perché dopo che hai lavorato tutto il giorno sì magari a noi piace anche però comunque sia ti costa del tempo che togli alla famiglia che togli altri interessi che hai eccetera quindi bisogna svegliarsi bisogna smettere di guardare la televisione bisogna ricominciare a leggere i libri libri anche scritti magari non oggi ma nel passato riprendere in mano la filosofia e capire quando capisci ti svegli e vedi che nella caverna ci sono solo delle ombre ok e che è meglio uscire dalla caverna dove c'è ci sono le belle cose da vivere e diventi è bravo e diventi una scheggia impazzita insomma anche tu nel senso che ci sarà sempre una fetta di popolazione che dorme ma insomma più scheggia impazzita ci sono e meglio è ci piacciono proprio anzi la intitoleremo così la trasmissione viva le scheggi impazzite siamo passati da Giorgetti a Tavares a Gran Reset e alle scheggi impazzite benissimo io vi ringrazio è stato molto interessante come al solito del resto sì no infatti infatti mi è piaciuta molto c'è pure il cane che insomma ci ha fatto compagnia e quindi benissimo io vi ringrazio buona serata e alla prossima grazie a te e ai telespettatori un caro saluto a tutti grazie a tutti